È stato un lampo, come un fulmine a ciel sereno, ma un po' per caso e un po' per fortuna l'ho notato, 69 iscritti. Non mi nascondo che volevo fare uno speciale per i 50, ma così è più speciale, vero? Un numero per gli iscritti, quello che rincorre se stesso, come l'Uroboro, come i secondi che dura questo video, e i minuti di pubblicazione dopo mezzanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.